Tiene, un 36enne di origine campana è stato individuato e denunciato dai carabinieri per una truffa ai danni di un'anziana signora di Calvene, un danno patrimoniale di circa 3.000 euro tra ore contanti, una truffa con la modalità denominata finto incidente effettuata in concorso con un complice attualmente in via di identificazione. I fatti risalgono al novembre scorso ma solo recentemente i militari sono riusciti a scremare i potenziali sospettati. Troppo tempo infatti era trascosso tra l'evento e la denuncia effettiva ma grazie all'analisi delle immagini registrate dal Targa System i carabinieri sono riusciti a identificare l'auto del truffatore, una Fiat 500 XL presa a noleggio a bordo della quale le forze dell'ordine avevano controllato soggetti pregiudicati già gravati di precedenti per reati specifici commessi in altre località d'Italia. Continua la campagna informativa degli uomini dell'arma nei comuni che martedì scorso grazie alle raccomandazioni illustrate durante i convegni hanno permesso di sventare una truffa ad un 77enne di Monticello Conteotto smascherando una truffatrice che si spacciava per la nipote bisognevole di cure costose.